Perchè sono, vedete, il numero uno, no, di un paese. Comuniti, con tutti quelli che c'hanno stato, non preso una parte, pure, non so abboccato nulla, con vacca. Canolo so abbocca, com'è? San Mauro, numero uno. No, perchè è meglio andare. San Mauro e Corleone. Guarda, calzato. Andiamo, non ti preoccupo, non ti rispondo. Allora, non si, non è bello, non ti preoccupo. Altri, meglio, se ne è proprio. Solo per l'amico, l'amico sono io, 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 per l'amico, l'amico è cui è. Guarda, mi metto una distorsione, l'amico è qui, dappora, stiamo, non ci puoi andare. Nu, quando c'è, non mi piaccia, non mi sembra, non mi sembra. Niente, non mi sembra. mi ha dato una chiusura, io la mia mamma è tutta vent'ora io ho cominciato a sbagliare la parola c'è capo bene non ti fai così? va così? io pure non ho sceppato un pugno sai? pure l'ho ristratto ti ha vinto, ti ha vinto, io ho tutte cose di Dio tutte cose di Dio non ti capiscio, non ti capiscio 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 sigeta il bambine, questo è cristiano simai dovuto jimitare e io le faremo bene sono i scambi non lo faccio sono i scambi sono qualche da non sono un'amera l'amera non lo so la città non è stata un'amera Grazie a tutti. Secondo me ho trovato il fatto che il clima sarebbe la cesta, vogliano un pece, questa pianta non è, secondo me il cavolo sacro non l'ha fatto, capito che c'è stato un comune che ha sperimentato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.